ecco un bellissimo trancio delle mie lasagne alla calabrese si vede anche veramente che alla calabrese ho messo anche questi tre peperoncino diciamo così diavolicchio per chi è veramente ce la fa mangiare insieme si possono gustare insieme come vedete si presenta veramente squisita io metto anche le uova mi piacciono molto le uova sode chi non le vuole mette non le mie tesse sono tutti gli elementi per soddisfare il palato qualcuno si vanda che frequenta più i ristoranti e spesso non sono neanche invitato in qualche matrimonio però vi posso assicurare che a casa mia vi posso proprio assicurare che non siamo assolutamente di meno nulla contro la ristorazione nulla contro nulla contro chi fa bene il suo lavoro ma non stiamo a penare neanche a casa fidatevi che la nostra parte la facciamo pure qua e alla grande